Salve carissimi amici, tuttubi qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. In questo video dove parliamo di Dragonero, le mitiche avventure, giunto al dodicesimo volume intitolato Il Troll dei Ghiacci, nonché il volume conclusivo di questa prima stagione, ma sono confuso perché la prima stagione si era conclusa già due numeri fa, quindi questo è il secondo finale della prima stagione. Sigla. L'editoriale iniziale ci riporta infatti questa comunicazione, che ovvero sia, si è conclusa la prima stagione delle mitiche avventure. Boh, non ho capito questa mossa da Sergio Bono nell'editorio, è proprio stranissima, anche perché la prima stagione si era conclusa già ai tempi degli spillati, hanno riproposto tutte le storie in spillato imbrossurati, quindi ci avevano fatto intendere che quelle che avevano iniziato come inedite erano parte integrante della seconda stagione, ma in realtà no. Va bene, ce lo facciamo andare bene così. La prima storia di apertura del volume è Il Troll dei Ghiacci, di Luca Enoca ai testi, Francesca Aureli alle matite, Giulio Zeloni ai colori. Un'avventura dove i nostri protagonisti giungono in questa valle remota, in questi monti deserti fondamentalmente, dove andranno alla ricerca di uno degli elementi anche ricercati dal burattinaio. Si ritorna sulla trama principale, quindi i nostri contro il burattinaio, in una serie di disavventure, avventure molto rockambolesche, molto d'azione, molto divertenti, con alcune gag piuttosto riuscite. A non essere riusciti sono i disegni di Francesca Aureli, che in alcuni tratti, soprattutto nei primi piani dei personaggi, c'è qualcosa che non funziona. Vi faccio vedere, a pagina 34, siamo ormai verso il finale, com'è messo il povero Ian e... Boh, mi sembra anatomicamente sbagliato, ma anche Merva, come sta guardando? Cioè, boh, non lo so, mi sembra che ci siano diversi problemi. Ancora ancora su facce strane, tipo un paio di pagine dopo, abbiamo un Ian con questa espressione qua. Va bene, ma in generale, mentre i mostri ci stanno ancora, il burattinaio ci sta ancora il resto. Come disegni, c'ha qualche problemuccio, soprattutto sui personaggi principali. Mentre, invece, come storia in senso stretto, tutto sommato funziona bene, abbastanza avventurosa, come deve essere una buona storia di Dragonero Adventure. La seconda storia del volume è Le Tecnobraghe, di Luca Eno che testi, Diego Bonesso alle matite, Claudio abboccato ai colori. Da notare come i font siano tutti stradigitali dei titoli e cozzino tantissimo col resto. Comunque, è tempo di vendemmia, bisogna fare il vino. Per fare il vino bisogna pigiare l'uva, per l'appunto, per fare il mosto. E Mirva ha inventato un paio di calzari che chiama Le Tecnobraghe. Perché Le Tecnobraghe? Cioè, alla fine... Cioè, sono braghe tecnologiche, quindi sono pantaloni tecnologici. Ma in realtà sono i piedi di un robot, fondamentalmente, di una macchina, che dovrebbero aiutare a fare il mosto. Ma creeranno un po' di confusione, un pochettino di disordine, di caos. L'ultima storia del volume è La Festa degli Orchi. Luca Eno che hai testi, Querino Calderone alle matite, Tiziana De Piero ai colori. Per una storia che vede i nostri protagonisti, alla fin fine, andare ad una festa con Gmorr e gli altri orchi. Vedere un po' le usanze tipiche degli orchi. In realtà, come storia, è molto, molto tranquilla. Niente di incredibile. Ma risulta piuttosto carino, in realtà, vedere come il mondo di Dragonero sia così vivace. Pieno di tante mitologie, pieno di tante razze e sottoculture. Come queste, siano più che diversificate. A chiudere l'albo, la posta con alcuni disegni di alcuni lettori e la riproposizione delle copertine originari degli spillati. Fine. Si chiude così con una tavola dei nostri tre protagonisti che ci informano che per ora è la fine. Ma guardate le nostre bellissime avventure in tv. Ora, questo finale di stagione così improvviso mi perplime alquanto. Ho già avuto modo di dirlo all'inizio del video e posso solo che ribadirlo. Anche perché c'era bisogno di far ritornare tutta quanta l'operazione solamente perché stava tornando, stava arrivando la serie animata per poi interromperla bruscamente. Boh, mi pare un po' un passo falso. Fai questo tipo di operazione per avere anche un controaltare rispetto alla serie tv. Per avere un qualcosa sempre in edicola. Qualcosa che ti possa far continuare di far venire voglia di andare a leggere qualcosa in edicola mentre c'è la serie tv. Ma anche quando non c'è la serie tv. L'interromperla così bruscamente mi ha lasciato alquanto perplesso. È vero che su preview il canale di anteprima di Bonelli e Bao non era più presente un tredicesimo numero. Quindi potevamo sospettare qualcosa e altri sì, è vero che non abbiamo la sfera di cristallo. Non è che possiamo immaginarci cose fantasmagoriche. Quindi, peccato, un albo che mostra un po' quel che è il Dragoniro alle mitiche avventure. Storie di avventura fondamentalmente con protagonisti molto giovanili e un po' di quotidianità di questi personaggi estremamente giovani. Che non sempre riescono a fare realmente breccia nel cuore del lettore più adulto. Spero lo riescono a fare nel cuore del lettore più giovane. E questo è quanto da dire di Dragoniro alle mitiche avventure. Di questo numero in generale è un po' anche di questa serie che è stata tutta un po' saliscendi. In alcuni momenti è stata anche molto avvincente. L'avventura è comunque sempre piacevole a qualsiasi età. Quindi non serve essere giovani per apprezzare una storia d'avventura. Dall'altro lato mi sono reso conto a più riprese quanto alcuni capitoli fossi io a non essere in target. E fossi io a dovermi un po' accontentare di quello che stavo leggendo. Giustamente, visto che il pubblico di riferimento era tutt'altro. Una buona lettura sicuramente adatta e che può coinvolgere lettori più giovani. Magari proprio quelli che hanno visto la serie animata e vogliono avere qualcosa altro in più. Capire qualcosa in più dei loro beni amici. Dei loro... Si dice beni amici? O mi sto flippando con Pokémon Scarlato e Violetto e DLC? In ogni caso, questo è quanto devo dire per voi per oggi. Ci si vede, ci si legge nello spazio di commenti YouTube qui sotto. Vi posso dire che mentre leggevo il volume ero anche indeciso se fare il video o meno. Ma poi mi sono detto, è l'ultimo volume, perché non farci un video? Perché non farci il... L'ho fatto finora, perché saltare proprio l'ultimo? Però, non fosse stato l'ultimo, probabilmente avrei evitato di fare il video. Ve lo dico proprio candidamente. Detto questo, ci si legge nello spazio di commenti YouTube qui sotto. Da Francesco, dalla soffita di Camera Mia è davvero tutto. E noi ci vediamo in una prossima video-opinione del canale. Ciao! Ciao!